ciao a tutti sono Sara e queste sono le mie ricette no waste per l'alveare che dice sì oggi impariamo ad utilizzare gli scarti più coriacei del broccolo per produrre un patè gli ingredienti necessari sono 125 grammi di scarto del broccolo circa mezzo bicchiere di olio d'oliva del parmigiano uno spicchio d'aglio un po d'acqua del peperoncino e del sale procediamo col pulire il broccolo una volta ottenuta la parte più dura la mettiamo a bollire in acqua leggermente salata questo è il risultato dopo la bollitura per cui prendiamo il nostro bicchiere del mixer mettiamo all'interno i gambi cotti e pian piano aggiungiamo tutti gli altri ingredienti e frulliamo questo è il risultato che otteniamo questa salsa può essere utilizzata semplicemente su un crostino di pane oppure per condire una pasta che sarà utilizzata semplicemente su